e ritorniamo in studio per la nostra rassegna stampa andiamo subito su ansa.it per le novità dal web troviamo un approfondimento per quanto riguarda il caso teo in francia nuovi incidenti nella notte e nelle banlieue anche dopo l'appello di teo alla pace continua la guerriglia nella banlieue di parigi per la quarta notte consecutiva dopo gli incidenti e le accuse di violenza alla polizia nei confronti di teo il giovane di olney subois che ha ricevuto ieri la visita in ospedale del presidente françois hollande e che ieri dal suo capezzale ha lanciato un appello alla calma so quello che sta accadendo amo la mia città e quando tornerò vorrei ritrovarla come l'ho lasciata quindi ragazzi stop alla guerra pregate per me per la prima volta da giovedì scorso la notte è stata calma ad onnè ma in diverse località della Saint-Denis ci sono stati comunque disordini lanci di bottiglie incendiari cassonetti e auto date alla fiamme la polizia ha arrestato 17 persone i pompieri sono intervenuti per un inizio di incendio in una scuola l'autista di un autobus è rimasto ferito in modo leggero dal lancio di una molotov e parliamo invece adesso di politica al decreto banche con il governo che chiederà la fiducia prende sempre più corpo l'ipotesi della richiesta di un voto di fiducia da parte del governo sul decreto banche secondo quanto si apprende il ricorso alla fiducia si renderebbe necessario per consentire anche alla camera di votarlo per tempo cioè prima che scada sempre secondo quanto si apprende non si escluderebbe la possibilità che alla fine sull'emendamento che prevede una fiducia di 97 milioni di euro per la rider golf cup criticato dalle posizioni potrebbe arrivare una decisione di inammissibilità iniziato il festival di sanremo tiziano ferro rende omaggio a luigi tenco la satira di crozza standing ovation per gli eroi del quotidiano clementino ron e giusy ferreri sono i tre campioni già a rischio eliminazione dal festival di sanremo la gravatoria di cui sono state rese notte soltanto le ultime tre posizioni è stata stilata in base al televoto del pubblico per il 50 per cento e alle preferenze della sala stampa per l'altro 50 per cento passano elodie alessio bernabèi samuel erma almetta lodovica comello albano fabrizio moro e fiorella mannoia dall'edera di nilla pizzi a nessun grado di separazione di francesca michelin con un omaggio finale a luigi tenco con ciao amore ciao non classificato nel 67 il festival di sanremo del 2017 inizia con una carrellata di grandi successi dal 1951 al 2016 che hanno fatto la storia della musica e sono diventati i tanche mondiali la prima delle canzoni ricordate è stata l'edera di nilla pizzi tra immagini in bianco e nero sgranate recuperate dagli archivi della rai poi la volta di adriano celentano con 24 mila baci e di mina con le mille bolle blu re e regina ancora oggi della musica italiana ma ci sono anche tony renis con quando 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 bobby solo con una lacrima sul viso pito donaggio con io che non vivo caterina caselli è presente con nessuno mi può giudicare little toni con cuore matto ancora bianco e nero ancora ricordi ripescati nella memoria nada con ma che freddo fa lucio battistico non sarà un'avventura la prima cosa bella di nicola di bari come dimenticare che sarà che sarà di ricchi e poveri lucio dalla prima con 4 marzo 1943 che si merita il primo applauso della sala stampa e poi con piazza grande il primo ricordo a colore di tumi rubi l'anima dei collage e indimenticato rino gaetano con gian ancora loretta goggi con maledetta primavera i ricchi e poveri eduardo de crescenzo e albano e romina power con felicità e nostalgia canaia altri applausi poi per vasco rossi commozione per mia martini 66 anni scorrono veloci tra mattia bazzar totto cutugno fiordaliso eros ramazzotti zucchero e giorgia che saranno super ospiti anche alcuni dei big in gara quest'anno hanno lasciato il segno nel passato fiorella mannoia marco masini gigi d'alessio ancora tra i più recenti renato zero raff ramedio minghi e mietta laura pausini andrea bocelli nec patti bravo daniele silvestri e il teatro ariston immerso nel buio accoglie al centro del palco tiziano ferro che rende l'omaggio a luigi tenqua 50 anni della morte con un'emozionante interpretazione di mi sono innamorato di te su immagini in bianco e nero grande successo anche per maria de filippi e che carlo conti presenta in questo modo nel corso di questi giorni è diventata una sorella ha detto alla conduttrice e continuiamo la nostra rassegna stampa con la cronaca su ansa punto it siamo a torino dove scattano dieci arresti per scori bandene dall'interland milanese a bordo di potenti autovetture già provento di furto dieci albanesi arrestati da carabinieri accusati di aver messo a segno negli ultimi due mesi almeno 26 furti in abitazione tra piemonte lombardia ed emilia romagna il fermo ha permesso all'arma di prevenire reati analoghi in diverse province del nord italia già oggetto di sopralluogo da parte dei malviventi invece adesso parliamo dell'arresto del pm ad aosta la gravità degli indizi di colpevolezza per l'ex pm di aosta pasquale longarini e per l'imprenditore gerardo cuomo si è ulteriormente rafforzata all'esito degli interrogatori di garanzia lo ha scritto il gip giuseppina barbara nella sua ordinanza di rigetto di revoca o sostituzione di misura coercitiva che era stata chiesta dai legali longarini cuomo sono accusati di indebita induzione l'ex pm dovrà rispondere anche di favoreggiamento siamo invece adesso in sardegna un'organizzazione transnazionale che trafficava stupefacenti tra la spagna e la sardegna riforniva le piazze italiane è stata smantellata dalla polizia al termine di una complessa indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia di cagliari gli arresti degli appartenenti all'associazione sono stati eseguiti a nuoro cagliari sassari pavia e bari ingente il quantitativo di droga sequestrato nel corso delle indagini migliaia di chilogrammi tra marijuana eroina hashish e cocaina per un valore di svariati milioni di euro ad operare è stata la squadra mobile di nuoro insieme a quella di milano pavia e bari numerose perquisizioni domiciliari che hanno portato al sequestro di materiale utile alle indagini la base logistica dell'organizzazione era ubicata tra orgo solo in provincia di nuoro e siurgus donigala in provincia di cagliari con ramificazioni in varie città italiane e in spagna ulteriori dettagli saranno forniti in una conferenza stampa che si terrà a breve alla questura di nuoro e una ragazzo di 15 anni di origine etiope è deceduto all'ospedale di vivo valencia dove era giunto in gravi condizioni domenica sera dopo essere sbarcato dalla nave di ciotti della guardia costiera assieme ad altre 600 persone il minorenne era partito dal suo paese di origine nel canale di sicilia era stato soccorso mentre era su un barcone tuttavia le sue condizioni erano già molto gravi denutrito e disidratato è stato subito ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dove è morto la notte scorsa quello del ragazzo etiope è solo uno dei casi registrati durante l'ultimo sbarco di profughi a vivo altre 20 persone dell'africa subsahariana sono state trovate in condizioni simili e si trovano ricoverate in varie strutture sanitarie in condizioni precarie molti di loro hanno bevuto per giorni acqua salata che ha compromesso anche le normali funzioni organiche e adesso andiamo brevemente sui giornali per la prima pagina del tempo che titola ancora sulle questioni legate a virginia raggi raggi che non lascia ma raddoppia la sindaca resiste rilancia e delira parlando di 91 problemi risolti per la capitale ma i pm la indagano un'altra volta per la nomina di romeo quello della polizza vita e questo è quanto evidenzia il tempo in merito alla questione le altre notizie il calcio con il posticipo roma fiorentina una fiorentina asfaltata per 4 a 0 che stecca alla fiorentina la roma vola 4 come gol rifilate la fiorentina di sousa e come il numero di poker realizzati quest'anno dalla squadra di spalletti 14 come le vittorie consecutive in casa che spazzano via lo storico record di campo testaccio fermo a 13 24 come i gol realizzati da gecko in questa stagione che con i 17 sigilli nel campionato vola in testa alla classifica cannonieri no ai nomi dei debitori vip il pd fa il regalo alle banche vociata la pubblicazione l'eredità del premier monti chi ha i btp ora trema lo stato se li può tenere il carteggio sul nuovo stadio della roma l'autorità di bacino e contro il campidoio il diktate del governo alle società con un derby tranquillo dio barriere in curva ci fermiamo piccolo break per noi torniamo in seguito con tutte le notizie da roma ed intorno e fra poco